Appena finisce il round Mi son bugato anch'io Uno down Mi son bugato Va bene Allora io barrico le finestre E non vedo finestre Se ne ammazza uno queste cose Droni Restare nella zona operativa Non abbandonare la zona della missione Restare nella zona operativa Il drone in uso ha individuato il contenitore di più rischio Deve sta laggare tutto Deve sta laggare tutto Ma come? Si anche io ho... Mi tiro 826 di ping Guarda i ping che hai 826 Orca vacca Raga Mi saremo crascio proprio E ora ne hai 92 Ecco Mannaggia la pentecoste Nooo siamo in 3 Non ce la faremo mai Non ce la faremo mai Dove un video di altri intanto C'è anche possibilità che passino dal tetto questi Non so guarda ci sono Non so guarda ci sono Oh raga mi sono pagato Ragazzi Mi sono pagato Ecco siamo in 2 Perfetto siamo in 2 Ok recuperato 2 E' già iniziata E' santi dio Si è già iniziato Raga mi sono pagato Premi spazio Abbassati Abbassati Sì Eh abbassati alti se sei bloccato Ma porno No no abbassati con sdraiati Occhio Quello sei bloccato Ma quanto che manca? A me sei bloccato davvero No come ti sei bloccato il gioco? Non possibile io sto vedendo loro Io no Cioè il schermata gritto Eh forse appena finisce il round ti Tranquillo appena finisce il round Mi son pagato anch'io 1 down Mi son pagato Questi in 3 stanno Adesso stanno pareggiando 2 a 2 Mi son pagato mi son pagato pure io Non ci credo Di dove è? Quello ho pagato Dietro 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 Dalla porticina E' stato lì Piega Che a volte i bug servono a qualcosa Chi è che Chi è quello che si era pagato pure lui? Hanno rinunciato ad appropriarsi del contenitore Oh no Sta trisciando Noo È a terra è a terra Bello è a terra Vallo uccidere Come? Come? Eh fai Sdraiati 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 Non riesco a sdraiarmi Come no? Minchia Vabbè comunque muore tra un po' eh Guarda lì Vinci tu Tranquillo No no non guardare Guarda lì Lì Non ti muove Eh no perchè quello lì è terra solo Lui si è pagato Dai che lo veda lì A sud C'è l'ombra A sud Eccolo Eccolo C'è il contenitore L'ho ferito Eh ma resta in puntamento Dio cane Poi schiatta Prova sdraiati A moderti Farsi Non riesco Non riesco Non riesco Completamente buggato Anche a me abbiamo messo è buggato hai visto? No no Eccolo Grazie Quando hai fatto un milancio 3 contro 5 Gli abbiamo fatto al culo Ed eravamo in due buggati Ora ti si dovrebbe eh vedere la schermata A Antegra Antegra Vai per lo sconso Mi devo Mi devo vestire E giocare allo stesso momento Porca puttana Oh Antegra ma tu ci sei no? Sì Provata So a primo giro davanti all'ingresso che è Oh raga io metto il chiuso E' stato lontani dalle finestre e dalle poste Gli inizio ok? Stai già giocando in gruppo in cinque? Oppure siete in meno? Sono in cinque Ah ok Sto facendo un botte di punti eh raga Continui a spottarli Oh no no non uscire Ma perché sei uscito? Sì che ti sei buttato sulle cose elettrifici No no c'è anche un altro ragazzo Però è morto Io ho il cecco eh Sì appunto Abbassa un po' il volume Perché mi strafisci Vai 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 FIUS Ferma da qua? Io la metto da sta finestra aspetta eh Vabbè Freedom io ho il cecchino prima di entrare da fatemi dare almeno un'occhiata che sto qua Bella Grazie Grande Ah spero metto anche da un'altra parte adesso non entrate raga eh Sento eh Sfondaci un po' Vai Vai Bonnel Vai Doi un'occhiata Doi un'occhiata Non vedo nessuno davanti a me Aspetta aspetta non ti muove Che ha distrutto filo spinato elettrificato e tutto eh Un è morto lì d'oro Senti i passi qua davanti Nooo È subito lì a sinistra Chi è morto scusa? È subito lì a sinistra Attività nemica neutralizzate la minaccia Dimenticatevi del contenitore Eh m'ha preso È morto lì a Tornate a occupare il contenitore dopo aver neutralizzato la minaccia Bella grazie È down Ma dove? Pa vaffanculo Regà non ce l'ho uccidete no? Bella Oh Dio Oh Dio Oh Dio Che guarda che non moriva Chi è questo? Dio Ah bello i coppili melico Oh Dio 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 Prendete la stanza Dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio Il cazzo sono Ho lasciato i giubbottini Bravo Messo Oh Dio Oh cerchiamo di vincere per favore va Poi me ne devo andare Prendete la stanza Prendete la stanza Siamo a 10 secondi Restano 5 secondi Compila Pelo spillato in posizione Proseguendo il conseguente attirazione di biorischio a tutti i costi Siumato Regaio Simbardo F dominato Sbarra Partito Simbardo mi hanno preso ma perchè eri sopra? eh stavo facendo la caccia ai droni da sopra? è lì sotto vedo il silenziatore chi ti ha preso? ero sopra ma con lo scudo si si ci sono qua ok no no non scendere sotto resta lì aspetta aspettiamo aspettiamoli ok ci penso io lì guardo io qui ok stanno sfondando uno con lo scudo come non l'ha preso? eh ma voglia che l'ho preso oh impedita al nemico di prendere il contenitore di più rischio ultimo difensore rimasto come l'ho preso? eh uno di loro? si 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 è quello che stai oh richiede l'avanzo ah ah grandi oh ragazzi io devo andare a tegri io devo anche andare adesso ah 15 5 10 me sono sono 10 minuti 9 15 6 quindi